Ciao a tutti, mi chiamo Davide Campione e vi do il benvenuto dalla sede del Laboratorio Musicale Walter Savelli di Palermo. Vi invito a iscrivervi a questo nuovissimo videocorso dedicato al mondo del pianoforte moderno. Vi accompagnerò alla scoperta degli accordi e vi spiegherò come riuscite a suonare le vostre canzoni preferite pur non avendo nessuna nozione o competenza pianistica di base. Vi aspetto numerosi su Udemy.com